Ciao da Giampi! Ci riproviamo anche questa mattina. Vediamo un po' come buta. Stamattina abbiamo innescato tre rig diversi. Un pop-up e mais, agli agrumi acidi, un tris di mais e un fish meal con mais. Vediamo un po'. Un po' come buta. Un po' come buta. Un po' come buta. Un po' come buta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.